Fretelli, eccolo lì! Ma tu vieni qua e non mi dici niente? Stai lontano, tesoro, passi lunghi e ben distesi. Che ci fai qua? È colpa tua se sono ancora qua io. È sempre colpa di Alfonso. Ma che bello, siete ritoriati. No, neanche, guarda. Per carità. Allora, siete tornati insieme. Nella surrealità di questa puntata. Esatto, ci voleva pure quello. Come vanno le cose? No, dobbiamo dare un aggiornamento al pubblico a casa. Come stanno andando tra voi le cose? Beh, diciamo che la seduta psicologica che ci hai fatto ha avuto i suoi grandi effetti. Bene, mi fa piacere perché ve lo meritate. Si lamenta sempre? Si lamenta. Ma sì, perché la sera voglio un po' di intimità. Dai amore, questa sta con i tweet, leggere. Eh, lo so. L'uccello, preferisce l'uccello di Twitter. No! Ma questa non l'ho capita, scusa. Ah, Twitter nasce con il logo di... È un uccello, il logo di Twitter. Quindi lei preferisce il logo di carità. Ok, ciao, fratelli. Ma vi volete far licenziare, fratelli? Eh?